Ciao, io sono Marco Gatti e mi sono laureato all'Università dell'Insubria in Scienze del Turismo. Attualmente sono il capo del marketing in un'azienda svizzera. Grazie all'università ho potuto sviluppare numerose competenze che ancora oggi mi sono utilissime nel mondo del lavoro. Sia competenze in ambito di marketing, di economia, di diritto, di sociologia, ma anche quelle competenze che oggi chiamano soft skills e che ho potuto sviluppare grazie alle numerose attività offerte dall'università al di fuori dell'orario scolastico, quindi stage, quindi esperienze di studio all'estero. Ancora oggi ricordo con piacere la mia esperienza negli Stati Uniti grazie al programma di scambio con la Niagara University. Quindi se cercate un percorso di studi che vi permetta un brillante futuro nel mondo del lavoro, venite a studiare in Insubria.